Questa scena è incredibile, un furto organizzato con un escavatore e con un bel bottino verosimilmente portato a casa da questi soggetti. Ma qual è la pena che rischiano queste persone se verranno beccate ovviamente? Allora se ci limitiamo a guardare solo la prima parte della condotta e quindi ci fermiamo concettualmente sul furto, la pena prevista dal codice essendoci più aggravanti è quella da 3 a 10 anni di reclusione. Sa di fatto tuttavia che ad un certo punto guardate che cosa succede. Vedete che viene intimato verosimilmente con una minaccia al conducente di quell'auto di fermarsi e il punto è che questo piccolissimo aspetto per te insignificante in realtà è estremamente significativo perché quella minaccia anche se esercitata contro una terza persona che niente c'entra né con il colpo né con le poste italiane potrebbe indurre la procura a contestare la rapina e non il furto e a quel punto la pena prevista sarebbe quella della reclusione da 7 a 20 anni. È il diritto penale. Che stè?